Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione di questo film che mi è stato mandato dal mio grandissimo amore, ovvero la regia Katia. Run, che mi mancava e era messo nella mia wishlist della Midnight Factory. Volevo andare a vedere al cinema ai tempi, ma è nato un piccolo scassapalle e io quindi al cinema non ci sono andato più. Vero amore? Grazie. Però a parte gli scherzi, almeno ora ce l'ho in Blu-ray, me lo sono goduto. In grazie di Dio, dentro casa, senza che mi scassassero i cazzo, varia gente con i cellulari o chiacchiere varie. Quindi da una parte me lo sono goduto. Grazie a regia Katia per il regalo che lei mi ha fatto. Speriamo che seguiranno l'esempio di lei e il caro vero vero, che per adesso nessuno mi sta regalando un cazzo. Ragazzi, fate gli scherzi. Se potete e volete, qua sotto vi lascio la mia wishlist e così mi potete fare un regalo per Natale. E farò anche la recensione, giustamente, vi ringrazio in video. Parliamo di questo run. Da una parte io pensavo che sarebbe stata una minchiata trashata. Anche se le premesse erano buone, nel senso una trama, sì, un po' già vista su altri casi, in senso un po' diverso. Ma ragazzi, spoiler proprio, no come non ci fosse un domani, ma c'è uno spoiler. Già il fatto di questa qua lo dovete capire dalla copertina che su mamma non è che è molto sana mentalmente. Quindi non ne vi sto facendo spoiler. Però io vi avviserò quando parlerò di cose un po' più spoilerose, vi avviserò. La trama è semplicissima. Vediamo questa ragazza che è nata con cinque patologie, una peggio dell'altra. È, diciamo, confinata in questa sedia a rotelle e l'unica persona che si prende cura di lei è sua madre. Che è molto fissata, molto calcolatrice, molto... Che sta attenta a tutta l'alimentazione e le medicine a un certo orario. Gli fa anche la fisioterapia, gli dà dei compiti da svolgere. Hanno pure un piccolo orticello perché siccome lei ha il diabete, quindi non può mangiare cioccolato e quant'altro. Gli dà qualche cioccolatino così quando lei si comporta bene. La ragazza vorrebbe anche andare in qualche nuova università. Le sue mamme dice che arriveranno presto dei... Per posto arriveranno, no? Quindi tu hai studiato, quindi dovrebbero arrivare. Però se non ti preoccupare, male che vada, rimani con la mamma. Tanto. Quindi vediamo un po' la vita quotidiana di questa ragazza e la vita, diciamo, della madre che, porca puttana, quando arriva il postino a lei, la ragazzina, cerca sempre di andare, sempre andare per la posta. Ma cazzo, questa qua si lancia anche dalla macchina in corsa per aprire la porta prima di lei. La tensione viene costruita bene, secondo me. La recensione di entrambe sono veramente eccellenti. Lei cosa mi cazzo chiama? Sarah Paulson. Non c'ha bisogno di presentazione. Chi ha seguito la serie di American Horror Story sa che è un'attrice molto versatile, nel senso che riesce a fare la donna sensibile, riesce a fare la persona cattiva, riesce a fare... Cioè, molto versatile, quindi ottima scelta per la nostra Sarah Paulson. Per la ragazza che non ho mai visto, ho apprezzato, hanno scelto una ragazzina, diciamo, acqua e sapone, tranquilla, non una modella di Victoria's Secret, perché di solito scelgo sempre bellissime ragazze, che non c'entrano un cazzo e quindi va a rovinare, diciamo, la realtà delle cose. Nel senso, non lo so, avranno fatto una buona scelta a metterci questa ragazza, anche se non è brutta, è una bella ragazza, non è che un cesso è... No, no. È una bella ragazza, però non è celsa, nel senso che poi va a rovinare la cosa. Come Fatore Fiume è piaciuta molto, anche che è utilizzata, le musiche che sono state messe per creare la tensione del film, e vedremo la figlia che cercherà di scoprire di più su sua madre, che sembrerebbe, pensa lei, la sua figlia, che sua madre vorrebbe che lei rimanesse così, nel senso che non migliorasse, nel senso che non guarisse del tutto e poter prendere la sua vita in mano. Detto questo, io ora voglio andare ai spoiler, ringrazio tutti, qua sotto vi trovascio la wishlist e anche la serie TV del Dottor Dragolo. Spoiler, tra uno, due, tre. Scopre ben presto che alcuni medicinali che lei gli dà, sono proprio medicinali anche, che non sono neanche per gli esseri umani, cioè sono pegani, che però, se lo viene utilizzato da un essere umano, procura immobilizzamento degli arti inferiori, e anche delle escoriazioni corporee, quindi quella cosa che c'è alle spalle ogni volta. Cioè, lei, sua madre, gli piace così che soffre con una merda e sta così uno schifo. Boh, gli piace prendersi cura di lei. Io, ragazzi, detto questo, grande anche il finale mi è piaciuto molto, che lei era mai alle strette, che lei voleva scappare dalla madre, si ingerisce questa cosa quasi letale, che deve essere portato subito all'ospedale e farti fare una lavanda grassica prima di crepare, e così riesce a sfuggire un po' alla madre. Finché la madre stessa vuole portarla via dall'ospedale, lei lascia un messaggio all'infermina mam, e da qui in poi farà una brutta fine la nostra Sarah Paulson, ovvero che fa un salto di circa 50 scalini, e perderà l'uso anche lei delle gambe, e finisce in questo ospedale psichiatrico, e verrà a trovarla la nostra cara ragazzà. E io ho detto, ma perché la va a trovare? Ci ha rovinato la vita. Invece no, la va a trovare da 7 anni circa, per rovinargli la vita anche a lei. Ovvero che non vuole che si riprenda e segue l'ospedale di merda, che non cammina. Bello il finale, cattivo, ma giusto. Io penso aver detto tutto, non mi sembra ringrazio le giagate per aver regalo. Di niente. In questi giorni vi porteremo anche un altro film che mi è stato regalato sempre dalle giagate, ovvero Isabella. Isabella? Però in amicizia di Isabella. Si è accappottato il patato. Niente ragazzi, qua sotto mi sembra vi lascio tutti i link per la nostra serie tv originale Terror House, però Dottor Dracula. La wishlist, se vuoi compragli un Hot Toys alle giagate, o un film a me, o un film a Dottor Dracula. E niente, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, e alla prossima recensione. Grazie.